Musica Perchè c'è questo fagocero che non possiamo superare Però avevamo trovato Questo Megafono Però non funziona Leggiamente Ora deve essere per forza quello Il Il mezzo a cui possiamo passare Però forse manca qualcosa Allora Andiamo un po' tornando indietro A dire Batterie Ho trovato, ho trovato forse Now then Any juice left in these at all? Vediamo Ecco, batterie Qua Now I'll put the used batteries into the voice recorder Adesso si Adesso si Andiamo via quello qua Ok 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 Ho un'allergia di cat Adesso Successe Ok Adesso possiamo andare Bene. Qua c'è il ponte, ok. Andiamo a campo. Sì, guarda, è in angostia. Sì, guarda. Sì, guarda. Il ponte è morto. È tutto che ho bisogno. Non posso capire così. Ho bisogno riparare la ponte prima. Devo riparare la... La cosa, la... La corda. È rotta. E cosa riparo? Questa, no. Di monata. Tanto, tanto vale provare tutte le cose. Beh, non devo certo tagliarla, questo. Ah, ecco, è così. A prime example of a professional bodge job. Sì, ma... No. È interessante. Sì. Sì. Questa è un bel tue bravo. Mi sembrava strano. Ma infatti non posso fare molto qui solo con le mie mani bare, altrimenti strangere le persone con idee dalle dalle dalle. Mmmh, mi serve qualcosa. E ma cosa? Questa non devo usare questo. E' ovvio, perché non devo certo tagliarlo, ma dovrei unirlo. Ma come? Questa è buona. Un altro obiettivo. Io solo posso crossare la pietra quando ho riparato la ruota di guida. Grazie, questo l'ho capito pure io, ma come? Oh, non possiamo muover il mastico adesso. Mmmh. E' davvero abbastanza miracoloso che questo sia stato qui per quanto riguarda. Mmmh. E' strano che mi fa usare il qua questo. Questo sarebbe s... Se poi non... Non serve a niente. Ma come... E' strano che mi fa usare il più rischio. E' strano che mi fa usare il giro di guida. Sì, ma come? Vediamo un po se tornando davvero prima forse Posso... Compre qualcosa e ne so Ancora in effetti non ho usato questo... Questo coso qua Quattro hook with thread, direttamente Non mi serve qualcosa, qualcosa Questo è il punto E' utile Tranne il coltellino che però Ovviamente perchè non devo tagliarlo Ma le altre cose neanche sono utili Voi qua c'è qualcosa The bags hang too low, I can't reach it Vedi tu dove lo mettono Non si vede neanche Ecco dove devo trovare qualcosa che mi serve Allora come lo prendo questo forse The thread is A too short B too thin Ok, bocciata diciamo Ecco Ho trovato il modo direi per Arrivarci No, per aggiustare la La corda però Non so Come deviare questo There's a tool bag hanging down there I hope nobody left it there when they took the express route to the bottom Un modo Mmm Ma come? Sicuro quello devo usare Perchè non c'è altra cosa a bridge, però può ammuffire da secoli Questo però Me lo fa usare The thread is A too short And B too thin C'è però Se non mi manca qualcosa Ma forse lo potrei usare Quindi La corda è 1 troppo corta E 2 Troppo Sottile che ne so Cosa che ci fermiamo qui Mettete un mi piace, un commento, consigliatemi qualche gioco e iscrivetevi Ciao